ciao buonasera ancora una volta abbiamo fatto centro siamo qui con alessandro nostro cliente molto giovane anche lui che ha comprato la sua prima casa ha coronato il suo sogno la bambina piccola e con sua moglie si trasferirà nel nuovo appartamento nei prossimi giorni sentiamo qual è stata la sua esperienza con l'immobilier del punto zero una bella avventura è anche abbastanza veloce perché un po tempo si è fatto si è iniziato agosto luglio a fine luglio agosto nemmeno un mese è stata lunga la procedura certo noi con le problematiche discorsi sei mesi di tre avviso d'affitto insomma è stato un po però gentilissimo fabio professionale ci ha esposto delle varie diciamo le varie varie tipologie di moto e quello più conveniente ce l'ha consigliato lui e noi abbiamo accettato no è un ottimo servizio perché uno magari trova la casa della subita e che magari in foto può essere wow però magari a vederla da vivo c'è qualcosa che manca allora sotto il consiglio tuo giustamente ci hai detto guarda secondo me questa non fa per voi comunque nel senso la porta fa vedere perché me l'avete chiesta voi che anche il servizio di consulenza è stato certo sì sì alla fine si è un ottimo servizio sei stato professionale siete stati tutti i professori perché anche dietro le quinte c'è stato un bel lavoro anche rietro certamente certamente grazie 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 a te massimilato ciao